ben a tutti ragazzi qui siamo da mickey jay e siamo qui sul nostro gioco back trial 4 vedremo come cazzo si gioca con questo gioco di merda vediamo ecco già so come guidare in avanti che cazzo ecco ecco così bravo credo che sia una molto grosso un po' troppo largo riproviamo io non mi arrendo così facilmente invece si ecco eh no è un po' troppo lungo non si potrà bandare cazzo ma non si sparga la testa questo finocchio occhio si si ce l'ho fatta vabbè questo qua era solamente il livello 1 il livello 2 arriverà fino al livello 10 se ce la faccio e finirà il video chiaramente mi sembra un po' troppo assurdo storia questi livelli già mi è venuto difficile solamente il livello 1 questo mi arriverà al livello 10 vediamo che tanto se ne parla vediamo no ma come si fa che cazzo si fa ecco ecco no sono rimasto come prima si l'ho fatta l'ho fatta non cadere l'ho fatta un attimo ecco va bene livello 3 questo sembra un pochino troppo assurdo ecco va bene così troppe ruote ragazzi ragazzi e ragazze quelli che mi stanno seguendo ovviamente come cazzo faccio oh non riesco a fare il livello 3 no gente le faccio ecco va bene asfaltate ok ora come cazzo faccio ecco le ruote aspettate allora facciamo una bellissima cosa no sono rimasto ancora là che merda ciao adiamo possiamo fare così via